Tra i timidi questi giorni alla Camera dei Deputati vi sono i collegamenti ferroviari, compresi quelli che toccano la provincia di Cremona. Ancora nessuna buona notizia per la tratta che collega Brescia e Parma e che coinvolge ogni giorno tanti cittadini del Casalasco che raggiungono le due città per studiare o lavorare. Adesso abbiamo solo la Sanzeno Ghedi che verrà elettrificata, ma tutto il resto, da Piadena fino a Parma, non viene elettrificato. E questo è un problema. A fine anno partirà lo studio di fattibilità, però il rischio è che effettivamente le risorse si vedano ancora in là, cioè nella programmazione 2731. Quindi vuol dire aspettare ancora tanti anni per vedere elettrificata la Parma-Brescia che poi è il territorio, una linea molto importante perché lo ricordiamo è una delle linee peggiori d'Italia, per cui serve grande intesa da tutte le forze politiche e tutti gli enti istituzionali che chiedono al governo di sostenere questa richiesta che è una richiesta ovviamente di buon senso e che serve a quel territorio. Ricordiamo anche quando è capitata la questione del ponte, che il ponte è stato chiuso, quella linealiera serviva tantissimo, però nelle condizioni in cui è non risponde a tutta una serie di esigenze, né nel raggiungere Parma né nel raggiungere Brescia. Da monitorare invece la situazione della tratta Cremona-Olmeneta. È molto importante perché quando faranno i lavori sull'altra tratta, molti pendolari dirotteranno sulla Cremona-Treviglio piuttosto sulla Cremona-Olmeneta-Brescia. Quindi sarà importantissimo anche il raddoppio per evitare l'ingolfamento. Quindi prevedere oltre al milione di euro già previsto per lo studio di fattibilità tecnico-economica, anche i 49 milioni per l'effettiva realizzazione, è positivo. Sono stati messi nel biegno 2024-2025, bisogna fare in modo che in quel biegno restino, in modo tale che entro il 2026 possano partire i lavori. Raddoppio Cremona-Olmeneta che farà bene su tutta la linea Cremona-Treviglio. Buone notizie per la tratta Mantua-Cremona-Codogno, per cui verrà finanziata la seconda fase con 700 milioni di euro. È previsto nel 2023 il finanziamento della seconda fase, quindi da Piadena a Codogno, con l'abbattimento dei passaggi a livelli su tutta la linea. Sono 730 milioni nel 2023, questo dimostra la volontà anche non solo dei governi che si sono succeduti, ma anche la capacità del commissario che è stato nominato di portare avanti insieme al territorio questa importante opera. Quindi questa è un'ottima notizia perché tutto prosegue.